ti devi solo vergognare Agnelli ti devi solo vergognare basta cioè dichiarazioni dichiarazioni di Allegri non so se avete sentito le ultime dichiarazioni di Allegri di merda vabbè poi non è neanche colpa sua allora basta chiuso basta basta non è neanche colpa sua continuate a fare l'abbonamento ogni anno bravi bravi la colpa è vostra che non protestate siete a Torino e non protestate bastardi tifosi falsi tifosi finti vi sta bene non è neanche colpa sua vincere scudetti ogni anno vincete gli scudetti perché voi quello veritate solo gli scudetti di merda bravi e Giannelli non è neanche colpa sua bravi e Giannelli la colpa non è neanche colpa sua non è neanche colpa sua la colpa è Giannelli che ancora lo mette lì basta ce l'hai lì la colpa è tua ti devi vergognare Agnese ti devi vergognare e adesso succederà l'inferno l'inferno preparatevi l'inferno succederà l'inferno 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 succederà basta 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 bastardi bastardi tutti succederà l'inferno l'inferno succederà cioè allegri che dice in conferenza stampa 9 titoli su 10 in Italia guardi di vincere le coppie dei campioni le coppie dei campioni qui bisogna vincere le coppie di Champions League qui bisogna vincere la Champions League non bisogna vincere gli scudettini del cazzo è un pezzo di in merda 16 punti ma se sei fuori martedì sei fuori te li cacciano fuori martedì voglio vederti martedì poi martedì succederà l'inferno l'inferno succederà l'inferno martedì succede l'inferno preparati quando non sa cosa dire se ne va il campionato per cambiare il discorso siamo a più 16 mi sembra anche mi metto a ridere ma cosa cazzo ti metti a ridere devi andare via non mi metti a ridere qua c'è da piangere ti metti a ridere vediamo come ridi poi vediamo come ridi martedì vediamo come ridi martedì ti dei bene crede ultimo carallegri ma sei fallito di nuovo in Europa quest'anno qua devi vincere la Champions League tutti vogliono la Champions League non lo scudetto che cazzo ridi ma poi ma la colpa veramente la colpa è di Agnelli la colpa è di Agnelli no no basta la colpa è di Agnelli la colpa è sua è sua la colpa è solo sua perché no è sua la colpa è sua la colpa è sua basta basta veramente io io no no se questo qua veramente ve l'ha confermato che rimane veramente io ho finito io ho chiuso più no io basta più ho finito più ragazzi sono stupo più basta basta no 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 ho chiuso ho finito tutto più no veramente qua bisogna aspettare Guardiola per giocare a calcio e quindi questi confermano sto qua che società di merda Agnelli devi andare a casa devi andare e finché ci sarà sta società non vinceremo mai c'è se non vinceremo mai nulla vedete vedete adesso ragazzi invitiamo tutti a fare l'inferno adesso l'inferno dovete fare l'inferno i veri tifosi devono fare l'inferno succederà l'inferno adesso se rimani Allegri succederà l'inferno altro che risate l'inferno succederà l'inferno iscrivetevi al canale iscrivetevi al canale iscrivetevi al canale l'inferno è pronto basta adesso basta che vergogna che vergogna Agnelli vergognati ricordalo